Ciao ragazzi, bentornati. È ufficiale, il Milan passa da Elliot a Redbird. Ieri c'è stata la firma e oggi l'annuncio ufficiale che Jerry Cardinale, fondatore e comunque capo di Redbird, ha firmato il passaggio di proprietà dal Elliot al Redbird. Con il fondo Elliot che rimarrà per una quota di minoranza comunque ancora in società e nell'amministrazione del Milan. E da ovviamente questo al closing ci vorrà comunque dei mesi, dicono per settembre 2022, quindi quando già sarà iniziato il prossimo campionato. Ora, nelle prossime ore, ci sarà l'incontro tra Maldini, Massara e appunto la società per quanto riguarda i loro rinnovi. I tifosi del Milan e comunque tutti nell'ambiente sperano che Massara e Maldini possano rimanere per andare sullo stesso solco che ci ha portato allo scudetto. E speriamo bene davvero perché hanno dimostrato con delle idee, e non solo a parole però, con i fatti che Maldini e Massara ci sanno fare e che ci hanno portato a vincere questo scudetto anche grazie a loro. E quindi la speranza che a parte le parole di Maldini di qualche giorno fa, che ho fatto un video a parte, ve lo lascio qui nelle schede, dove si sentiva un Maldini arrabbiato per il comportamento della società, eccetera. Speriamo che possano continuare insieme perché dobbiamo capire che questo è un punto di partenza e non è l'arrivo per poi dover tornare a bazzicare nelle posizioni più basse. Dobbiamo partire da qui, cercare di riconfermarci anche l'anno prossimo perché questa volta sarà una sfida per la seconda stella con l'Inter, ci sarà probabilmente la Juve che tornerà a un livello più accettabile per giocarsi lo scudetto e dobbiamo stare attenti comunque anche alle altre squadre perché comunque Roma, Lazio avranno un anno in più con questi allenatori, con Sarri e con Mourinho e quindi potranno fare sicuramente meglio, ovviamente dipenderà anche dai giocatori che arriveranno per tutte le squadre e anche comunque le fatiche europee che saranno di un livello superiore per quanto riguarda la Roma che stavolta giocherà l'Europa League e non la Conference. Comunque fatto sta, rimaniamo in casa Milan, ci sono appunto ore frenetiche per vedere di trovare la svolta, il rinnovo per Massare Maldini, dopodiché ci saranno i rinnovi degli altri giocatori cercare di blindare Leao, cercare di tenere i giocatori protagonisti dello scudetto per poi iniziare a pensare anche al mercato, qualcuno in uscita si parla sempre di Castieco, di Salemecker, Messias, se rinnovano il prestito, cioè il diritto lo prendiamo definitivamente oppure lo ridiamo al Crotone il riscatto di Florenzi, insomma staremo a vedere, la prima cosa è il fatto che Cardinale ha firmato e rinnoviamo Maldini e Massara assolutamente, non c'è ombra di dubbio su questo. Io sono fiducioso, certo è che volevo Invescorp, come si erano presentati eccetera eccetera era una cosa che mi stuzzicava il palato e non poco, però il fatto sta che alla fine si sono defilati si sono ritirati, è arrivato Redboard, il Milan verrà preso per 1,3 miliardi però nelle ultime ore ho visto su OneFootball, questi 600 milioni li darà Elliot finanziati da Elliot, un po' come è stato 4, ormai 5 anni fa quando Yongong Lee prese il Milan ma dei soldi gli aveva dati appunto Elliot che era il fondo che poi prese tutto il Milan perché Yongong Lee non era riuscito a pagare tutte le rate, tutti i soldi insomma che doveva per acquistare il Milan da Berlusconi ed è per questo che siamo arrivati al fondo Elliot e a posteriori meno male visto che in 4 anni hanno risaldato il bilancio, siamo tornati a alti livelli, l'anno scorso ci siamo qualificati in Champions League dopo 8 anni e quest'anno dopo 11 anni abbiamo vinto lo scudetto, quindi Elliot tanta roba, sono davvero contento che possano rimanere con una percentuale di minoranza ancora dentro alla società e Gerry Cardinale comunque da quello che so vuole assolutamente continuare con Maldini e Massara con la stessa dirigenza insomma e quindi speriamo bene per il meglio, vi terrò aggiornati per altri aggiornamenti appunto, scusate il gioco di parole per questa vicenda che si chiuderà probabilmente quindi lo ripeto settembre 2022 staremo a vedere, speriamo bene, noi col fiato sospeso ma stiamo a vedere, siamo fiduciosi e niente, ci vediamo ad un prossimo video, vi raccomando mettete un mi piace, condividetelo iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e mi raccomando sostenete anche le bombe di mercato perché probabilmente oggi pomeriggio arriverà un altro episodio sulle bombe di mercato e a più tardi allora, ciao ragazzi